Asse asse Va bene, allora partiamo ragazzi Ci sarà tanta strage in questa partita Se volete possiamo fare anche fronte russo E allora, dove siete? Eccolo qua, dove è Peppe? Siamo tutti vicini vicini Agut Guardate che è preso la G Mi sto muovendo verso... oh mi ha investito Cioè il medikit devo già utilizzare ragazzi Il mio compagno mi ha investito con la macchina Con la G Cioè il medikit è iniziato Si Si Non è un uccasso No Non è un uccasso È un uccasso Un uccasso Un uccasso C'è in Charlie Vabbè anche noi abbiamo preso 5 Vedo delle teste Vabbè Io odio la foresta Non li vedo cazzo non li vedo Vabbè 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 Come cazzo l'hanno ammazzato quello lì L'hanno ammazzato davanti agli occhi ragazzi Eh Vindalo mi ha ammazzato Stupide foreste che ci sono solo alberi che danneggiano Che ci danno ossigeno Vabbè Sono cattivi gli alberi Sembra lo stesso ragazzi quello che mi fa fuori Che sono tutti a terra Vabbè E abbiamo pure un carro alleato nelle vicine Guarda che mi ha ammazzato Sempre lui Maledetto stronzo Maledetto stronzo Checco Vabbè boss Buona fortuna ricorda che il Puma tedesco è OP contro gli americani Eh ma ma Quello con la gif si è schiatato qua dentro Lo spero Che sia così Il fatto che io devo ancora memorizzare bene le mappe Spesso mi ritrovo Spesso mi ritrovo A girare intorno Eh l'ho visto dopo ragazzi L'ho visto alzare la testa dal cespuglio Dai alzati su Non c'è più Ancora Dai si spuglia Non c'è più Andiamo di raggiungere A Non c'è più Non c'è più Non c'è più Non c'è più Ero tutti qui Ti beccherò qualcuno Ti beccherò qualcuno Ma dai ma dai Ma dai Come si era salvato Ok 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 Preso pure A Si stanno riprendendo C Però Però l'esplosione Uccide chi sta dentro Ah si Dai 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 una mano Io vedo i colpi ma non vedo chi spara Che culo Non c'è più 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 Sarebbe stato più Immersivo e impegnativo In che senso ragazzi Vabbè i messaggi scorrono velocemente Ragazzi io mi perdo nei meandri Dei vostri dialoghi Stanno prendendo via Cioè con me io non vedo un cazzo Chi si trova a difendere Si deve limitare ad avere quella piccola casetta lì Sembro Tom Rider Poi probabilmente adesso mi spuntano dietro Dai entro Entra stronzo Non c'è più Non c'è più Non c'è più Utilizzo il fucile di penisore Come un'arma normale Ciao zio So io so io In belleggiatura ragazzi Una vittoria così non l'ho mai fatta Guarda dov'ero guarda Ciao Americanen Sto gioco mi guarda Day of defeat So us migliorato però Dici? Dici? Solo 8 kill Io non l'ho mai giocato Day of defeat So us migliorato però Beh i tempi andati Io sono saltato per aria un 20 volte Che ecco quando vuoi giocare basta dirlo Eh ma vorrei cambiare mappa però eh Alla prossima cambiamo mappa raga Infatti io vorrei stare vicino a voi raga Io ho il problema è che li vedo parecchio confusi i miei Ogni volta si muovono talmente disordinati A parte che i borbar di me sembrano i cacciatai di Star Wars Ma resuzione Bad bello Quelcun Si Si No Fall c'è il stop di tutti i punti va bene se non ci muoviamo già abbiamo perso la partita ce ne ha avuto di tre a terra raga tutti e tre per metà non è in fiamma troppo tra le palle nemiche tutta la squadra ma la squadra se gli dico di fermarsi in un punto perché mi viene dietro c'è tutta la squadra iniendata perché veniva dietro me non sparo mi guardano ma chi ricorda quest'area verdana ci sono anche poche trincee più che altro secondo guerra mondiale ci sono Sì, vaffanculo, però, minchia, ma si muove ma... Basta prendi un buco a terra, si muove tutto. E pure la porta hanno buttato a terra. Ti riprendi, magari. Forza. Eh, beh, ovviamente. Ci sta, ci sta, ci sta. Avere il nemico... Dietro. Dai, che sono settimo con solo due kill. Non è che ne abbiamo fatte tante. Io più ci gioco, ragazzi, più mi piace. Però sto fatto di muovere intere squadre, quella che è la mia becca. E a parte la mira, eh. Il fatto che il nemico ti spawna dietro, la cosa non mi piace. Cioè, è un po'... È impossibile, cioè... Capisco essere aggirati dal nemico, però... Il nemico, boh... Che arriva... Così... Soppiatto. Giustamente. Quello era pronto. Aspettava me. Ma che be' è sempre granate di merda. Sempre granate di merda. Eh, io ho rotto forse qualche cingolo. Gli ho fatto un po' di danni. Sì, ma c'era un air esplosivo lì. Una volta che poteva avere una buona occasione di fare tanti kill... Ah, sono morto come un pino. Dai, Toretto! Toretto! Peppe! Peppe, zero kill, Peppe. Ma stai giocando, Peppe. Stiamo perdendo, ragazzi. Oh, l'esplosivo, raga. Provo, eh. Devo farlo saltare, sto car. Non lo so se ho contribuito, raga. Non lo so. Non mi interessa. Vabbè, no. Che è? Giustamente la testa di quello ti mette davanti al nemico. Minchia, ci siamo auto-ammazzati. Non, non mi interessa. Buono, buono! non c'è lì Madò Eh vabbè Ti fai un po' Neloo, c'è me lo c'è me lo Vabbè che c'è fuori qui faccio NOO Grande Toretto che è salito in quarta posizione ragazzi Madonna sono tutti qui Ma che mira di merda che ho Ma veramente ragazzi è una mira di merda Tre colpi che potevo farli fuori tutti e tre di fila non ci sono riuscito Qui ammazzi un carro e ne sfondo una Sono l'unico che non li utilizzo i carri Devo utilizzare la divisione dei carri Ultime due ore ragazzi di drop attivi Mantenete la live aperta per riscattare ricompense Ovviamente dopo aver caricato il vostro account Gaijin Grazie a tutti E non è che ti viene indicato da dove arriva Dai compagni non lo so Sono tutti morti lì guarda uno dietro l'altro Sono morti L'ora arriva e sarà qui Neanche è complicato segnare la posizione del nemico qua Sono dentro le trincere Sempre vivi il re Sempre Sempre vivi il re Quando gli sparo io Sempre due colpi ci voglio Nooo non posso morire così Sì Cazzo di fucile o Dobbiamo riprenderci A Dai sono tanto amante Possiamo ribaltare il risultato Dai esci bastardo Che culo di merda Non avuto la bondà di aspettare ragazzi Il fatto che già hanno ribattato di nuovo il risultato Ma che bello Li prendo sempre nel pancino Sempre Sempre Sì 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 Stiamo riperdendo di nuovo Ma dai ma dai ma dai ma Oh raga ma veramente oh Ora mi spara lui Ma come cazzo Vabbè raga ma che Ma i cheat qua Mi sa a me che sono appalati Raga E sparì Eh ma vedete ragazzi È perso il messaggio Network connection interrupted Eh anche il lag secondo me È bello grosso Sto gioco Ma Adora ragazzi Mi hanno preso il carro da distanza siderale Adesso lo prendo io Dai Oh forza Andiamo col nostro puma Mascella distrutta Dai Lo prendiamo sto A o no Dai Alza la sua torrente No guarda guarda Ok abbiamo vinto Miravo All'iperspazio Io con La torrente Ah sì È una bella cosa La devi appare sempre Comunque 20 kill Toretto Complimenti Senti ragazzi Primo In classifica Con 42 kill Il pari merito Con altra tick Con 42 kill Grandissimo Io ho 20 kill E Peppe 12 kill Dai Stiamo migliorando Di volta in volta Sino Lo ccito È in Lore Lo ccito rer Lo ccito Il pari